Allora, c'è l'ontano? È tuo? No, è il tuo. No. Teddy Dream risponde alla voglia di giocare dei bambini. Il contadino. C'è la papara in casa. Conforme suoni i colori. C'è la nanna. Dalla collezione Primi Giochi Sapientino, Teddy Dream è un gioco clementone. È il tuo. Nanna, nanna! No, è il suo. Nanna, nanna, c'è l'oppolo.